E' di novembre, marmonada di nuovo qua. Sto facendo in marmonada più profonda. Guarda qua quanto va giù. Tempo stupendo. Vedete il previsto. Santi di nuovo, Cesco. Almeno siamo un po' di amici oggi che ci aiutiamo a far traccia, anche se siamo sempre noi davanti però. Bella discesa, Santi di nuovo qua, non può rinunciare al piacere della polvere neanche lui. Tutto per noi ragazzi. In cima, partendo di nuovo da Capanna Bill. Quasi 1.6 di nuovo. Punta Rocca con tempo stupendo. Ancora più polvere. Non ho parole. Così su, quasi a Punta Rocca ragazzi. Non è come si gode la neve! Ma come se la gode! Sì! Secondo giro, pronti? Sì! Pronti! Sì! Sì! Venga! Che bocciasse che sei! Vieni ciaval! Spettacolo! Qua bisogna menare ragazzi. Venga, siamo fatti super, non mena! Nono è così! La spettacolo ha nato tra il giro. Vien wenni! Il valore della mia ragazzi. Buongiorno sia di una Biblios10. Sì!